Buonasera, ben trovati a Primo Sinterpares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. La regia ha già messo il titolo della prima parte ma questa trasmissione si diventerà in due parti, la prima che avete già visto il titolo e che ovviamente tratterà l'aspetto economico soprattutto in questo periodo difficilissimo, soprattutto per quanto riguarda le tredicesime se serviranno per pagare tutte le utenze invece che andare a prendere i regali, nella seconda invece parleremo con il Presidente della Croce Verde di Padua davvero che si impegna per salvaguardare la salute di tutti i cittadini. Allora io presento già i primi due ospiti che sono due illustri ospiti già intervenuti in molte mie trasmissioni e che sono esperti sotto l'aspetto economico. Inizio con Francesco Pontelli, economista. Buonasera. Buonasera, grazie a Renato Mazzon. Segretario della CGA di Mestre. Buonasera a tutti. Avete già visto il titolo, le tredicesime per pagare un po' gli stipendi, ovviamente tratteremo anche l'energia e tratteremo tutto quello che concerne ovviamente il momento difficile economico attuale, anche del PNRR che bisognerà. Inizio del primo, questo PNRR bisogna rivederlo un po' da come era stato programmato in virtù anche dell'aumento dei costi delle materie prime e di tant'altro, di certi lavori che non potranno più essere eseguiti per questo motivo e dovranno essere sostituiti oppure il governo dovrà prendere, o chi di dovere dovrà prendere delle decisioni su quali fare? Parto, due considerazioni. La prima, in parte l'hai già sottolineata tu direttore. La prima considerazione è che il PNRR nasce alla fine del 2020, inizio del 2021, i documenti. Quindi è un'impostazione che non tiene conto, o meglio, non registrava in quel momento perché non c'era, né l'aumento delle materie prime, che è arrivato qualche mese dopo, né l'inflazione così importante, né la crisi energetica né la guerra russo-ucraina. Cioè ci sono quattro fattori di scenario, non banali. Allora, se io faccio una programmazione importante, come sono i 230 miliardi, alla fine sono i 232 miliardi, fra debito e fondo perduto che viene dato dalla comunità europea all'Italia, se io ho impostato la spesa di questi 230 miliardi per comodità, l'ho impostata senza tener conto, ma non perché non si è stato in grado di tener conto, perché non esisteva in quel momento. È chiaro che a due anni di distanza, un anno e mezzo di distanza, qualcosa va rivisto. Pensiamo a una cosa sola, che per me è una delle più clamorose. La impostazione Next Generation EU, l'Europa, aveva impostato gli aiuti tramite il PNRR in Italia, presupponendo o avendo l'obiettivo del problema affrontare il tema del cambiamento climatico, con tutto quello che ne consegue sul piano dell'energia. Bene, ha un anno e mezzo di distanza. È ancora prioritaria? Nei fatti? Certamente no. Probabilmente nelle intenzioni sì e dovremmo tornare a quello. E quindi è chiaro che bisogna che lo ripensiamo. Stravolgerlo, rivoluzionarlo? Non credo. Adattarlo a nuove situazioni che ci sono? Credo di sì. Ci siano tutte. Potelli, secondo lei? Ma che si debbano rivedere le priorità del... Io so che lei è più abituato alla battaglia, nelle trasmissioni qui invece è un po' più tranquilla. Cerchiamo di far capire ai nostri spettatori com'è la situazione veramente, anche per chi uno sente il PNRR, sente il recovery friend, sente tante belle parole e non sanno nemmeno il significato perché oramai si parla in inglese. Quindi è utile anche e soprattutto per loro. Allora, che ci sia una revisione assoluta delle priorità è evidente. È necessario ed è fondamentale perché appunto questa impostazione relativamente a questa transizione ecologica in questo momento è assolutamente fuori tempo, non è assolutamente condivisibile. Basti ricordare che la settimana scorsa il 48% dell'energia prodotta in Germania veniva dal carbone. Per cui è evidente che la Germania ha virato verso il mantenimento del livello energetico per dare ossigeno all'impresa. La settimana scorsa ci sono... Ma poterimi scusi, questo vuol dire che al di là dell'Europa, che l'Europa può fare qualcosa di più per tutto l'aspetto dell'energia? No, che l'Europa deve abbandonare in questo momento i paradigmi ecologici, ideali e soprattutto ideologici che ha adottato per questa visione dei prossimi anni e cercare di mantenere in vita il sistema industriale europeo. Perché la settimana scorsa tutte le associazioni industriali si sono riunite in Europa e hanno detto che l'anno perché fino adesso noi siamo riusciti a campare un po' degli ordini pregressi, un po' dei magazzini che avevamo, però adesso cominciano a diventare fondamentali gli ordini che le imprese cominciano a prendere dall'anno prossimo per le prossime stagioni. E scontando un'inflazione all'11,8%, scontando un prezzo del gas che da noi è dell'energia che è assolutamente fuori controllo rispetto alle altre nazioni come la Francia che ha un'inflazione e la Spagna che sarà il 6%, la metà rispetto alla nostra, ha dei costi energetici molto inferiori in quanto hanno adottato il tetto al prezzo del gas che noi invece abbiamo deciso di attendere l'Unione Europea che ancora oggi non ha atteso, per cui di questo ci sarà una responsabilità politica del Governo Presidente. Noi adesso andiamo in Europa a vendere i nostri prodotti nelle filiere internazionali e non siamo più competitivi. Ora, è evidente, è un problema che riguarda anche la Germania, la Germania ha scelto, ok, utilizziamo il carbone per adesso, per i prossimi anni, poi si vedrà, perché l'obiettivo principale non è la transizione ecologica ma è il mantenimento dei posti di lavoro. Qua invece stiamo ragionando del nulla quando invece le aziende stanno cominciando a chiudere. Questo è uno dei cambiamenti più liberi. Mazon, stravolgo un po' la scaletta perché voglio iniziare con le tecnici, ma andiamo a vedere le grafiche della Ciglia di Mestre sul fatto della crisi dell'energia, come è cambiata negli anni, va bene? Allora, se la regia riesce a mettermi la grafica, poi ovviamente Mazon, Renato ci spiega tutto, accordamento economici dei costi dell'energia. Iniziamo da qui Mazon, adesso è un po' in piccolo se lei riesce però a delucidarci di questa grafica. Questo è l'andamento del PIL, è quello successivo, parliamo anche di questo. E' questo? Esattamente. E qui non si capisce nulla se non me lo spiegarei. Benissimo, benissimo. Ci sono due slide che riguardano, uno l'energia elettrica ed è questo, poi ce n'è uno successivo che riguarda il gas. Questo è il costo, nei luoghi in cui si va a determinare il costo della materia prima, dell'unità di misura. il punto, una parte del megavattore. Spieghiamo in maniera ancora più semplice. Bene, questo è il prezzo. Quelle targhette lunghe che vediamo. Partono da sinistra, partono da gennaio 2021 in cui il prezzo mensile per megavattora dell'energia elettrica era nel gennaio 21 a 60,7 euro. Per avere poi ad agosto 22... Facciamolo, vi rompo le scatole. No, no, no. Un megavattore cosa vuol dire? È l'unità di misura su cui... Ho capito che l'unità di misura è ovvio, ma il significato rapporto soldi e energia, cioè un megavattore, quanto tengo acceso la luce? Lo sapete questo oppure no? Beh, è un'unità di misura molto alta, che riguarda qualche centinaio di case messe insieme Perfetto, ho capito. Di consumi. Do l'esempio per... Non ho la cifra esatta, ma è così. No, è per capire il megavattore che potenza ha se fa per una città, per un quartiere, che ne so, per un palazzo. Comunque, è l'unità di misura. L'unità di misura è passata. Che per cento? Facciamo cento famiglie? Facciamo cento famiglie, sono di più che vengono cogliate. Facciamo cento famiglie. Il prezzo del chilo era di 60 euro nel gennaio 21. È schizzato ad agosto 22, ma là vedete la grafica, le barrette che vanno sempre più in alto. È schizzato agosto 22, quindi qualche mese fa, qualche settimana fa possiamo dire, a 543 euro alla stessa unità di misura. Lo stesso kilowattora... Quindi è montato 11 volte, 10 volte. È aumentato 9 volte, 9 volte circa. Poi è ridisceso ed è questo... Interrompo, scusa a tutti, io si vinterno. È aumentato 9 volte per una speculazione o perché... Questa è l'elettricità, vero? L'elettricità sto parlando. Poi il gas ha lo stesso andamento. Ma per quale motivo? Allora, secondo voi è aumentato perché c'è stata una speculazione, perché... Non dico io. Vai, 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 vai. Il discorso è un discorso prettamente politico, perché il prezzo dell'elettricità è legato alla quotazione del gas, però è una decisione politica. Perché bisogna anche tornare un po' indietro, c'è teori che sono stati fatti magari in buona fede nel 2003-2004, quando si decise di creare la borsa del gas per dare maggior importanza a livello del trader delle materie prima all'euro. Cosa succede? Visto che noi, appunto, come si diceva prima, siamo ancora tutti impregnati di questa ideologia ambientalista priva di contenuti economici, si è deciso di fissare il prezzo dell'elettricità a quello del gas, cioè alla fonte che secondo loro è quella più inquinante. Essendoci la borsa olandese che è soggetta alle speculazioni, automaticamente cresceva il gas e cresceva l'energia elettrica. Tutto giusto, ho capito. Però aumentare dall'oggi al domani, 11, 9 volte, chiedo scusa, così... In un anno però, in un anno e mezzo. È così, dal 2003. Dal 21 a 22. Da vent'anni fa succede che in un anno aumenta di 9 volte. Così dal mattino alla sera si alzano due persone e dicono, avvertiamolo, no? Hanno avuto l'opportunità in rapporto alle condizioni internazionali, pandemia e guerra. Chiedo scusa, gli è stato permesso questo? Ma certo. Allora, più che permesso... Da chi gli è stato permesso? Il mercato. Dobbiamo anche stare attenti. Cioè, oltre alla speculazione, c'è anche il mercato, oggettivamente. Passata... Ma scusatemi ancora se... Il mercato dice, aumentiamo... Vi sto facendo domande, ovviamente da ignorante, quindi ovviamente cerco spiegazioni da esperti. Uno dice, aumento di 9 volte il valore del costo dell'energia e del gas in un anno del mercato. E' come io, dicessi, faccio la mia televisione a uno spot, oggi costa 1000 euro, domani costa 11.000 euro, in un anno. C'è qualcosa che non mi quadra? Certo, c'è, esattamente. Cioè, che non riesco a capire... Parte è il mercato. Ma il mercato è condizionato. Ma chi lo fa questo mercato? La geopolitica. Devo fare... In questo caso, purtroppo, si è dato spazio ai prodotti finanziari, ai future, che sono un contratto meraviglioso. Perché se io ho un'azienda a tessero, ho un'azienda che ha bisogno di materie prime, io con il future mi assicuro il prezzo della materia prima ad un determinato costo, per cui posso programmare la mia produzione per i prossimi anni, sapendo che la lana che compie in Australia mi costerà non più di questo. Cosa succede? La finanziarizzazione dell'economia, che è uno degli aspetti più deleteri del contemporaneo, cosa ha fatto? Emette dei future che pensano, in considerazione dell'andamento, ecco, come diceva prima, geopolitico, internazionale, per cui avevamo pandemia, la Cina che aveva comprato tutte le materie prime, in più la guerra, secondo me il prezzo aumenterà. Il future, il paradosso qual è? Che il future, di per sé, diventa un elemento di speculazione e aumenta il trend. Ho capito. Ho capito che il future è così. Però la mia domanda è, capisco anche, Mazon, che se mi dicono, oggi l'energia, il gas, al 90% quello che ce lo dà è l'Ucraina o la Russia. Capisco che a un certo punto in un anno aumenta di 10 volte perché c'è la guerra, ma qui i costi hanno iniziato ad aumentare da prima e i costi arrivano dall'America o arrivano davvero dalla Russia? Allora, se noi andiamo, grazie intanto della domanda perché mi consente di riproporre una considerazione là. Noi abbiamo un aumento forte. Da gennaio, se la vediamo là, da gennaio 21 a dicembre 21, cioè l'anno 2021, il prezzo dell'energia elettrica, ma è uguale all'andamento del prezzo del gas, come andamento percentuale. Possiamo mettere quella del gas dopo, Claudio, Marco, in regia. Se vedete, noi abbiamo a dicembre 21 abbiamo un picco a 2,81, poi a gennaio 22, febbraio 22, cala, non di molto, leggermente, riparte poi a marzo. Di quando è l'inizio della guerra? 24 febbraio del 2022. Allora, è partito prima l'aumento. Dopo a cosa? Allora, dico le cose nobili, dopo ci sono anche quelli ignobili, spiegazioni. Spiegazione nobile, è ripartita la produzione e quindi il consumo di energia, si è esso gas, si è esso elettricità, primo. Secondo, c'è stato qualcuno che ci ha marciato sopra, diciamo noi veneti, qualcuno che ha fatto speculazione. Sì, è vero, c'è stato vero. L'aggiunta di 1 più 1 più 1 non fa 3, 1 più 1 più 1, fa 111, cioè è esploso il sistema. Insieme con l'energia, sì, noi ci ricordiamo, a seconda metà del 2021, noi abbiamo avuto anche l'impennata dei prezzi delle cosiddette materie prime. Come no? Ce lo ricordiamo tutti. Che ha portato poi il combinato disposto, materie prime, energia, uguale inflazione. Quella è quella che noi stiamo soffrendo. Bene, Potelli, in tutto questo la politica non poteva fare qualcosa di diverso, l'Europa non poteva fare qualcosa di diverso, oppure l'Europa non conta, sotto questo aspetto, non conta nulla rispetto alle grandi potenze. Parlo ovviamente degli americani, dei russi e dei cinesi, adesso per il gioco ormai lo dividiamo tra loro tre. Allora, per il 2021 e i primi dieci mesi, il 2022, l'Europa è rimasta ancorata alle proprie ideologie ambientaliste, non ha capito nulla di quello che stava succedendo e soprattutto non ha messo in campo nessun tipo di intervento finanziario per diminuire l'impatto dei costi energetici. Sottolineate anche un'altra cosa, perché errori sono stati fatti anche precedentemente. Noi abbiamo il più grande distributore di gas, che è Leni, che è partecipata dai fondi privati, per cui loro hanno dei contratti con la Russia o avevano con la Russia che ha prezzi stabili e li hanno venduti ai prezzi della speculazione. Perché? Perché bisogna che il capitale investito dia il massimo rendimento. Questo succede perché? Perché è stato deciso di privatizzarli. Chi è che ha privatizzato tutti i più grossi questo tipo di aziende che hanno un interesse pubblico a fine degli anni 90? Ma non per ridurre debiti. Sono privatizzate sempre un po' sotto l'occhio dello Stato, insomma, sono una privatizzazione un po' anomala. No, BlackRock è uno dei soci di maggioranza, insieme a Cassa dei Posti dei Prestiti. Per quanto riguarda i dividendi, sono state privatizzate sul serio. Per quanto riguarda i dividendi. E ci credo che per i dividendi. Esatto, e quindi è chiaro che noi abbiamo un concorrente che invece... Mattei, cosa diceva? Il mio obiettivo è quello di cercare di dare l'energia ad un prezzo concorrenziale per sostenere il sistema industriale. Invece adesso noi abbiamo il nostro primo ente, Leni, che deve massificare le proprie entrate da distribuire ai... Ma tutto questo, Pontelli e Amazon, è per far diventare più povera la gente, secondo voi? Io non credo ci sia qualcuno che ha in mente il grande vecchio, che ha in mente, io so quale strategia. È il risultato di piccole, medie, grandi strategie, combinato insieme, che porta a una situazione del genere. Dicevamo prima, perché l'Europa? Mi fa rabbia sentire queste piccole, grandi strategie, che uno si alza e si inventa e fa tutto in un anno. Perché io capisco che dal 2003, come diceva prima Pontelli, c'è stato questo errore, molto probabilmente, come diceva, di programmazione e dal 2003 inizia una lenta ascesa. Però nessuno poteva prevedere una pandemia, questo è evidente. D'accordo, però succede, Pontelli, che a novembre, fatalità, le temperature sono state in miti e il gas è diminuito. Succede ieri, o l'altro ieri, leggo sui giornali, il gas aumenta del 64%. Cioè, ma allora mi chiedo, e mi domando, e mi chiedo e vi domando, perché non c'è una spiegazione. Nel consumo non c'è consumo, diminuisce. Ovviamente dice, l'offerta è sempre il solito discorso, però... Io ho una visione personale, nel senso che non esiste, come diceva giustamente il Presidente, non esiste un grande vecchio, oppure una visione delle grandi famiglie finanziarie. Esistono delle opportunità che una classe politica assolutamente incapace di gestire fenomeni così complessi ha fatto. Perché, ribadisco, facciamo gli esempi comparativi. In Germania le autostrade sono pubbliche. Noi le abbiamo privatizzate, d'accordo? Andare a tornare da Padova a Milano costa più di gasolio. Noi abbiamo privatizzato e siamo arrivati al Ponte Morandi. Ma la domanda è, ma è possibile che ancora questi economisti dicano che sia la cosa... Vi ricordate l'efficientamento del sistema? Ma di cosa stiamo ragionando? Questi sono i risultati di 30 anni di una classe politica, di economisti bocconiani che hanno distrutto questo Paese. Noi siamo, dobbiamo cominciare la rendizione economica, noi siamo l'Argentina dell'Europa. Se voi andate a vedere l'Argentina è stato privatizzato tutto e sono ridotti alla fame. Noi siamo, per fortuna, più ricchi perché abbiamo un sistema industriale che è un'eccellenza nel mondo. Ma noi siamo l'Argentina dell'Europa. Tutti quelli che sono passati al governo hanno servito a determinati gruppi di interesse, ma no previsioni internazionali. Per un interesse immediato di bottega prendevano i soldi e scappavano. Questa è la realtà. Non è che ci sia una visione, ci sono solo quattro bottegai di gruppi finanziari con quattro politici presi dalla strada che fanno questi piccoli intrecci. E alla fine, quando arriva una pandemia che purtroppo ha messo una linea a tutto, a questo andazzo, ci si ritrova con tutti questi problemi. Ma sono tutti errori fatti prima. Se mi consiglio vorrei aggiungere una cosa che stiamo pagando adesso. Perché la stiamo decidendo adesso, adesso intendo dire 2022, non questi giorni. Noi abbiamo fatto una scelta, noi in Europa, abbiamo fatto una scelta di intervenire per contenere il costo dell'energia, imprese e famiglie, a valle. Tirando fuori, investendo. Adesso dico la cifra, ma è una cifra enorme. I 27 paesi dell'Europa hanno investito in aiuti alle imprese e alle famiglie, o famiglie e imprese mettete prima chi volete, 560 miliardi di euro. Dentro questi 560 miliardi di euro, parlo da giugno sostanzialmente 2020 a dicembre 2022, andiamo a dicembre ormai, siamo già a dicembre. 560 miliardi che sono stati spesi realmente per calmerare il prezzo, a valle. Ma a monte cosa abbiamo fatto? Questo è il problema vero. Allora, e aggiungo una cosa di cui non se ne parla perché fa comodo non parlarne. Di questi 560 miliardi, sapete quanto ha investito la Germania in questi aiuti alle imprese e alle famiglie? Ha investito 290 miliardi di euro, per la verità anche nel corso del 2023, ma già impegnati. 290 miliardi circa, pari al 7% del PIL tedesco. Noi quanto abbiamo messo? 63. Posso integrare i suoi dati? Io li cito perché una volta l'abbiamo detto in termistone qua. In più c'è da aggiungere una cosa per far capire che le responsabilità sono pregresse di tutti quelli che si sono seduti alla guida del nostro paese come Presidente del Consiglio. La Germania si è presentata successivamente alla fine della pandemia con un debito al 67% sul PIL. Cosa hanno detto? Noi possiamo arrivare a sforare fino al 71-72, ma loro nel momento in cui hanno detto noi sforiamo, prevediamo di rientrare sotto il 70% già nel 2030. Noi qua abbiamo una spesa pubblica arrivata a 1.124 miliardi, ma avete l'impressione che ci sia qualche sostegno veramente reale alle imprese o alle famiglie con una spesa che è folle? Questa è la realtà. Certo. Ho la pubblicità, però io credo di averlo già detto a voi in una trammissione, cioè è tutto giusto quello che dite, quasi trovate delle giustificazioni. Io invece non riesco a farmi pazzi su questo, non riesco a capire perché trovare delle giustificazioni. E semplifico il concetto. Oggi lei Mazon va in un ristorante, entra, le pagano il conto, di solito in quel ristorante lei paga, faccio un esempio banale, 30 euro, le presentano il conto e il conto arriva a 200 euro. Stesso mangiare, stesso trattamento da ieri a oggi. Lei Pontelli cosa fa? Generalmente lo sai prima. No, non lo sa. Lei entra, paga oggi. Pago, faccio debito. Pago, faccio debito. Io chiamo i carabinieri. No, perché il problema è questo. No, ma dico, nel mio ragionamento. Sì, il suo ragionamento è corretto. Io chiamo i carabinieri e dico, signori, fino a ieri io pagavo 30 euro, oggi pago, se dovessi fare il conto che avete fatto voi più di 200, lo stesso trattamento, un giorno dopo, due giorni dopo, 200 euro. Anche se lo sapevo prima, chiamo i carabinieri e le dico, è permesso. Credo che i carabinieri, o la guardia di finanza, anzi chiamo la guardia di finanza, è più utile, la guardia di finanza qualcosina di aiuto mi dà e mi fa. Domanda, in tutto quello che mi avete detto e cercate di convincermi che è giusto, nessuno ha detto, fermatevi ragazzi, il gas, l'Europa, non lo aumentate così, perché non siamo schiavi vostri. Cioè dovete, concludo, dovete fare qualcosa, se no chiamo la guardia di finanza. Manca un termine che lei ha usato correttamente, che è la complicità, perché la politica europea, la classe politica italiana è stata complice di questi interessi finanziari. Potelli mi ha risposto, d'accordo che è stata complice? No, io non arrivo a dire complice, dico soltanto... Perché se mi dice complice ha detto tutto, ha chiuso, il mio ragionamento è già completo. Dico soltanto che ormai queste decisioni non vengono più prese coinvolgendo l'Europa, l'Europa non conta niente. Ormai è Pechino, Mosca, Poco e Washington. Questi sono i due che decidono, Pechino e Washington. Tutto il resto... Io sono più dell'ipotesi, sono d'accordo con Potelli, che la complicità, quando si dice non è mai casuale, qualcosina c'entra, qualcosina c'entra. Noi andiamo a pubblicitariamente con noi, perché abbiamo ovviamente tante cose da dirvi, come spendere purtroppo la tredicesima, non solo per i regali, ma per ben altro, a tra poco.